Training Season, lo dice lei, Dualipa, quindi ecco il titolo giusto è quello. Training Season è alle 7 e 47 minuti, entriamo un po' invece nelle notizie perché in attesa di una manifestazione che ci sarà il 6 di aprile, molto importante, che ha a che fare con il CPR di Via Corelli, anche questa sera, se volete arrivare, anzi, un po' diciamo, se volete arrivare preparati al 6 di aprile, questa sera potrebbe esserci un interessante appuntamento per voi. Ce lo dice, ce lo racconta meglio la nostra ospite, buongiorno a Danna Campo-San Piero della rete Mai Più Lager, no, ICPR, buongiorno, benvenuta a Good Morning Milano. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno a voi. Allora dicevo, no, il 6 di aprile ci sarà questa importante manifestazione per chiedere la chiusura del CPR di Via Corelli, ma questa sera veramente potremmo cominciare, non so, a introdurre l'argomento e a capire meglio, oppure a sapere bene appunto di cosa stiamo parlando. Perché cosa c'è questa sera all'Expornace sull'Alzai a Naviglio? Allora, questa sera Oscar Agostoni, che è questo autore e attore, ci metterà in scena questo spettacolo che si intitola Reietti, come creammo ICPR, che ispirandosi alla storia di Musa Bald, questo ragazzo di 23 anni della Guinea che si è suicidato nel CPR di Via Brunelleschi a Torino, ha costruito un monologo di una potenza emotiva straordinaria, in cui ci porta dentro quello che è l'inferno dei CPR, ma non solo, anche come vengono costruiti, da dove nascono e come il sonno delle nostre coscienze permette che esistano. Ormai sono anni che un po' dormiamo, no? Ma voi della rete non tanto, però noi cittadini un po' troppo a volte. Ed è importante come, veramente, come dicevi poco fa, il sonno delle nostre coscienze è alimentato però tutto questo, e quindi è importante forse farci anche un esame di coscienza direttamente noi altri. Sì, noi siamo bombardati quotidianamente da una propaganda in cui c'è un nemico che cerca di invaderci e quindi viene disumanizzato e in questo, senza fare spoiler, anche nello spettacolo viene raccontato molto bene, no? Questa visione di altri da noi che cercano di invaderci e questa cosa è strutturale, è costruita negli anni e quindi noi abbiamo un dovere culturale di smantellarla, proprio perché genera diffidenza, guerra e paura, esattamente quello di cui si nutre poi chi vuole rinchiudere le persone in questi luoghi. A chi è rivolto contro lo spettacolo? Cioè a chi ne sa già, a chi non ne sa niente, a chi vuole approfondire? Chi è il pubblico perfetto per questo spettacolo questa sera? Ma guarda, anche chi non ne sa niente, perché poi viaggiamo accompagnati, alla fine dello spettacolo ci sarà un mio intervento a nome della rete in cui spiegherò un po' meglio che cos'è la detenzione amministrativa, qual è l'origine, perché è un'aberrazione giuridica, perché non possiamo, in questo caso noi a Milano, avere un luogo di questo tipo praticamente in città, perché Viacorelli non è neanche più quasi periferia con l'espansione della città. E quindi è indirizzato un po' a tutti. Ma diciamo che anche chi magari sa che cos'è un centro per i rimpatri, questo è un CPR, viene trascinato dalla forza emotiva con cui viene interpretato questo monologo che vorrei aggiungere è di e con Oscar Agostoni, ma con l'aiuto anche di Elga Bernardini che si occupa delle luci, della musica, e quindi è uno spettacolo che ha promosso, in questo caso questa sera, l'ampi barona Carlos Muraglia, quindi un'attenzione, le ampi sappiamo che hanno a cuore la Costituzione, e con il CPR la Costituzione non esiste. Tutto questo, a Milano c'è anche l'aggravante, sappiamo, del commissariamento, del fatto che adesso il gestore deve esserci un nuovo gestore, ma le cose comunque continuano ad andare male, perché l'abbiamo visto grazie anche ai filmati che finalmente riescono a uscire, le notizie che ogni tanto trappelano, insomma è sempre peggio la situazione dentro. Sì, allora diciamo che il commissariamento noi lo rivendichiamo come una nostra vittoria, perché parte proprio dalle denunce che noi come rete facciamo da cinque anni, perché grazie a un ricorso che ha fatto il Naga a Corelli si possono tenere i cellulari e non vengono spaccate le videocamere, quindi c'è un numero di telefono che si chiama SOS-CPR e quindi a noi arrivano informazioni. Però il commissariamento non basta, il commissariamento è una situazione in cui il gestore ha approfittato anche dei pochi soldi che vengono investiti per cercare di fare profitto, ed è una situazione che si verifica ovunque, ma il problema non è chi lo gestisce, il problema è l'istituzione in sé, il luogo in sé, lo abbiamo visto con l'ennesima morte di Stato, Smansillà, che si è suicidato a Ponte Galeria qualche settimana fa, quindi non è certo, siamo contenti che finalmente non ci sia stato un giudice, perché noi abbiamo fatto più di un esposto, qualcuno che ha raccolto le nostre denunce, ma non è sufficiente, non si possono democratizzare, vanno chiusi. E allora appunto se volete capirne un po' di più, questa sera è il momento giusto, ricordiamo allora Anna che cosa possiamo vedere questa sera e dove, dacci tutte le coordinate e anche come funziona, ingresso libero, dobbiamo prenotarci, dacci un po' anche appunto le cose più tecniche per capire come fare a venire all'Ex Fornace questa sera. Allora lo spettacolo si intitola Reietti, come creammo i CPR, inizia alle otte e mezza organizzato alla Ex Fornace di Via Alsaianaviglio Pavese numero 16, ingresso libero, organizzato da Lampi Barona Carlos Muraglia col patrocinio del Municipio 6. Vi aspettiamo davvero, davvero, davvero alla pena, preparatevi perché è una botta emozionale incredibile. E poi magari appunto a quel punto siete pronti per il 6 di aprile, ricordiamo velocemente cosa succederà il 6 di aprile? Il 6 di aprile la rete MyPureLagerNoiCPR chiama una piazza a partire dalle 15, il luogo lo stiamo definendo con le autorità, con chi lo deve autorizzare o definire, ed è un ritorno in piazza dopo un po' di tempo, dopo la pandemia, dopo alcune situazioni che ci hanno impedito di scendere in piazza. Chiediamo alla città di unirsi a noi, e non solo, abbiamo risposte anche da altri luoghi dove si vogliono costruire nuovi CPR o dove già ce ne sono, per dire no ai CPR né in Italia, né in Libia, né in Albania, né altrove. E insomma, questa è la richiesta chiara e semplice, anche mi verrebbe da dire. Quindi, poi comunque, so già che ti avremo qui ospite per parlarne nelle prossime settimane appunto, in vista del 6 di aprile. Allora, questa sera ricordiamo all'ex fornace, alle 20.30, allo spettacolo che racconta i lager che ci sono in questo momento, anche nella nostra città, Reietti, come creiamo i CPR. Grazie mille ad Anna Camposampiero della rete Mai Più Lager, noi CPR. Buona giornata e a questa sera, allora. Grazie a voi, buona giornata. Grazie mille ancora Anna, e grazie anche a voi che ci avete ascoltato, perché è importante, è importante questo tema, lo sapete. Quanto noi di Goodman e Milano siamo legati anche appunto a questo tema dei CPR. Adesso un po' di musica, ma poi torniamo qui, non andiamo da nessun'altra. Parte! Grazie a tutti.